Hola a tutti ragazzi, è il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video finalmente su una nuova serie di Minecraft che serie è? Minecraft ad obiettivi per i veterani del canale diranno Luke ma questa serie l'hai portata già tempo fa perché la stai riproponendo? perché ragazzi quando la portai andò un po' male di conseguenza siccome la ritengo una serie che può valere perché non ho vista neanche una su YouTube almeno quando la feci io di Minecraft ad obiettivi dico vabbè allora è valida, credo che possa andare credo che sia un format abbastanza originale portiamola in cosa consiste? perché dico questo? perché nessuno, almeno da quanto visto, si fa dare gli obiettivi magari dai suoi giocatori più che giocatori, i suoi iscritti infatti ragazzi avrete voi i protagonisti di questa serie mi direte voi in ogni video Luke, obiettivo ammazza 20 pecore in un video, no? per fare l'esempio e il vostro commento sarà messo in sovraimpressione inoltre appunto nella bacheca degli obiettivi come feci nella vecchia serie perché ragazzi non ho ancora chiaro il concetto di come sarà la serie vi invito ad andare a vedere i primi video della vecchia, ok? comunque ragazzi detto questo voglio dire un'ultima cosa e poi saltiamo in mondo e andiamo a fare un po' di avventura i video che vedete in questi giorni ragazzi saranno molto brevi infatti ieri non ne ho nemmeno caricato uno proprio perché ultimamente qui c'è a casa mia nella mia zona c'è un maltempo quindi vento, temporale, pioggia forte, diluvio universale e di conseguenza non c'è la corrente elettrica ogni tanto salta, ogni tanto viene e quindi siccome è stata portatile adesso che non c'è la corrente ne approfitto per reccare e di conseguenza ragazzi carico video brevi appunto perché durante il caricamento se salta la corrente si interrompe e mi devo solo incazzire perché si interrompe il caricamento detto questo ragazzi possiamo startare il mondo sperando che sia un mondo bellissimo quindi andiamo in single player create new world lo chiamiamo minecraft ad obiettivi ok poi mettiamo la bonus cesto giusto per iniziare un po' più avvantaggiati e facciamo create new world ok ragazzi siamo spawnati vicino a una savana però dove l'ha messa la cesta? ah eh però non me la puoi mettere in quella mondo segno comunque ragazzi all'inizio ovviamente laggerà un pochettino perché siccome sta caricando i chunk come sempre minecraft ci rallenta tutto poi oltretutto ragazzi avendo assenza di corrente diciamo così siccome non è alimentato il pc eh può scatticchiare un po' perché appunto è un po' rallentato di conseguenza vi chiedo scusa ma non credo che scatti più di tanto detto questo ragazzi andiamo subito in cerca di pecchere benissimo ci serve il letto subito subito ragazzi vi ripeto per la centesima volta questo video non durerà tanto però dai prossimi ovviamente quando voi mi darete gli obiettivi si parte a bombà sperando che in maltempo passi ragazzi perché davvero senza corrente non si può stare il bello che viene va infatti anche gli altri su TS sanno quando sono irritato in questo momento perché mentre giochiamo magari sulla skygrid all'improvviso crash non è una cosa piacevole raga altra cosa importante vi invito a passare appunto sulla pagina facebook sul mio profilo di instagram che è meno attivo perché ragazzi io non sono il tipo che fa selfie anzi per chi mi conosce tanto tempo sa che sono contrario ai selfie però sulla pagina facebook è importante perché ogni volta vi dico oggi non esce un video perché oggi andatevi a vedere il video per esempio di coni aggiornamento quindi mi raccomando andate a lasciare like la trovate in descrizione comunque raga le pecore ce l'abbiamo le pecore ci hanno dato il cibo abbiamo un bel piccone di stone quindi direi di andare un po' in giro ad avventurarci ci sono i polli che noi andremo ad uccidere con tanta cattiveria un altro poll poll vieni qua poll raga ovviamente questa qua è la versione 1.11 quindi mi devo ricordare appunto che devo far caricare il colpo e mi dimentico sempre cazzo non ho capito comunque raga per questa serie mi invito a lasciare abbastanza like non dico moltissimi ma abbastanza perché devo capire se vi piace siccome quando ho provato a portarla precedentemente non è piaciuta spero che adesso viaggia da più ok muori strunze muori pure tu dove scappi dove scappi strunze ok ok bollo raga questo qua non è un video adatto agli animalisti perché ammazzi i polli però raga a parte gli scherzi è un gioco perché magari c'è qualcuno che se la prende davvero perché il mondo è fatto di animalisti purtroppo cioè no purtroppo anzi fanno bene però quando sono esagerati c'è gente che non può vederli in un gioco vedo di morire gli animali allora noi dobbiamo uccidere i poll i poll si ragazzi a volte dico nei video cose che non c'entrano nulla col video però è giusto per parlare un pochettino mentre sono a caccia pollo strunze mamma mia questo pollo non si faceva prendere boom ole ole boom 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 mamma mia mi dispiace signorina ma lei gli do fa male grazie ragazzi abbiamo dieci petti di pollo petti di pollo oddio un pollo intero che poi sono galline però vabbè e dodici non so se sono costolette comunque gambe di pecora cosci di pecora come devo dirlo non lo so perché sono dei piccone ce me lo chiedo pure io devo trovare una zona magari anche fuori dalla savana perché è una zona strana anzi ragazzi che ne dite se costruiamo appunto la zona la casa la bacheca appunto di obiettivi e tutto nella savana secondo me ci può stare perché è una cosa che non ho mai fatto non sono mai andato nella savana per ricostruire il mondo quindi credo che sia un'idea carina detto questo vorrei trovare della cobblestone in bella vista in modo da rompere tutto infatti eccola là perché sarebbe bello anche fare una bella casa interna alla caverna proprio quelle robe belle coatte quindi vediamo un po' raga come pensarla anzi credo proprio che rimarrò qui sapete perché qui mi piace come zona a parte dobbiamo togliere questo albero anzi lo tolgo subito no non ce lo lascia togliere questo albero però qui si ha una bella visuale poi si può fare un sacco di costruzioni laghetti artificiali perché qui non ci sono un sacco di robe interessanti raga e vi ripeto voi con gli obiettivi potete decidere di tutto qualsiasi obiettivo uccidi 20 creeper in una notte no problemo lo faccio cosa che il video duri 20 ore cioè raga capite che così funziona poi non so come strutturare bene gli obiettivi se ho delle ricompense o no ci sto pensando un pochettino e appunto raga decideremo col passare del tempo quindi prendiamoci la copre se abbiamo già una ventina di copre sono già va bene e possiamo farci la crafting table non è vero e mito prendo la legna a mano vabbè prendo questa qui in modo che cominciamo a buttare giù l'albero ma ce l'avevo la legna sono semplicemente ciecata signor ok mettiamo questo qua ma poi ce l'avevo anche i bastoggini raga non so cosa sto combinando non so cosa sto combinando sono molto distratto allora ascia poi facciamo un piccone anzi direi perché quello là si sta per consumare ho fatto anche l'archivement poi facciamo una bella palo e poi per finire facciamo una bella spadozza mettiamo tutto in ordine come piace a me quindi il piccone va qua anzi siccome c'erano due anzi facciamo così facciamo le cose ordinate prima questo qua poi queste qua no si strunza ok poi questo e adesso possiamo craftarci anche una bella fornace per metter a cui c'è la roba bellissima mettiamo la fornace qui sopra raga questa è tutta una disposizione momentanea quindi lo dite che schifo che stile di costruzione di schifo raga in questa serie ci concentreremo anche sull'estetica eh quindi sarà davvero una serie stupenda io almeno lo spero comunque direi di fare ah la carbonella se può fare così ok mi stavo già dimenticando e ah ma qui c'è un laghetto ah eh ma è un po' troppo scomodo sta sotto noi raga io sto già progettando come dovrebbe essere la casa tipo tutta bella in legno rotonda che esce fuori dalla montagna una base figa se vedrà se vedrà poi ragazzi se andrà avanti ripeto la serie ogni magari 10 20 episodi vi carico la mappa in modo che chi vuole giocare se la se la gioca comunque facciamo un po' di carbonella signorina grazie facciamo l'ultimo pezzo e mettiamo cuoce la carne anzi intanto che magari cuoce la carne ah sta facendo un altro pezzo ce la farà ce la farà non ce la fa allora intanto che cuoce la carne noi possiamo farci il lettuccio così sistemiamo un altro problema eccolo qua ok ragazzi prima di concludere il video volevo fare diciamo una cosa a parte ossia volevo far vedere per chi me lo chiede sempre qual è la mia texture pack ossia la pur bdcraft 128 nei commenti scrivo spax pur bdcraft perché sarebbe il nome completo però voi scrivete questo oppure andate sul sito che trovate qui e la trovate tranquillamente io credo ragazzi che sia davvero molto bella come texture e anche un po' diversa da quella classica io perciò la sto usando comunque ragazzi detto questo spero che il video di oggi vi sia piaciuto abbiamo fatto questo oggi praticamente vabbè a parte questo ho spiegato un po' come si svolge la serie e altre cose comunque vi invito a lasciare like commentare i conti di obiettivi condividere il video ma soprattutto iscrivervi al canale ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi